Allora, grazie di essere qua. Io devo parlare di un libro, devo, nel senso voglio parlare di un libro che parla di terrorismo, di terrorismo internazionale. Ora, il problema è che vi chiedo pochi minuti per una digressione che apparentemente non c'entra niente, ma che è importantissima secondo me, perché mi sono reso conto, presentando questo libro in tutta l'Italia, che una parte del mio discorso non veniva capita, veniva capita poco. Perché proprio mancava questa premessa che voglio fare. E la premessa che faccio comincia dal ricordo di una favola che tutti conosciamo, che è la favola del re nudo. Tutti la ricordiamo, cioè per chi per caso, per coincidenza, non si ricordasse, è quella favola dove tutto sommato viene raccontato di un regno dove c'era questo re che girava nudo, ma siccome a tutti era stato raccontato con talmente tanta intensità e ripetuto talmente tante volte che questo re invece vestiva abiti bellissimi, ormai la gente non si accorgeva più che il re era completamente nudo, cioè di un fatto clamoroso, e lo vedeva vestito, fino a che poi c'è il famoso bambino che ha la voce dell'innocenza, che si rende conto che il re è completamente nudo e lo dice di fronte a tutti. Parto dal re nudo, perché è esattamente quello che sta capitando alla nostra società, al nostro convivere. Noi siamo di fronte a delle realtà clamorose, che potrei anche definire, dovrei anche definire, scandalose, vogliamo anche dire pornografiche, da tanto sono scandalose, e non ce ne rendiamo più in realtà conto. Cioè qualcuno di noi vagamente ha un'idea, o tenta, o sente, ma nella grande maggioranza della nostra collettività ormai il re nudo lo vedono tutti, cioè nel senso che lo vedono vestito, lo guardano tutti, nessuno si accorge che questo re è nudo. E a cosa mi riferisco in realtà? Mi riferisco, il mio re nudo è la sparizione, la distruzione dei diritti fondamentali dell'uomo, che è avvenuta nell'arco di pochissimi anni e di cui non ci stiamo più rendendo conto. È importante capire questa cosa, perché guardate che è straordinario come ci abbiano sottratto sottratto dei principi di esistenza che abbiamo costruito in 250-300 anni di storia e che dovevano essere dati per eterni, non so, così come è dato per scontato che si respira. Sono stati aboliti, o pressoché aboliti, e non ce ne rendiamo più conto. Chi ha fatto questo, quelli che io chiamo i nostri nemici, i nostri avversari, lo ha fatto con un'abilità incredibile, perché è riuscito a spogliare questo re completamente nudo e non ce ne siamo accorti. Noi oggi non stiamo più parlando, discutendo dei diritti fondamentali, stiamo discutendo animatamente quanto vadano aboliti i diritti fondamentali, più o meno. Guardate che tutto il dibattito in Italia, ma anche nella maggioranza, nella quasi totalità, dei paesi occidentali, che leggete sui giornali, i telegiornali e le televisioni, è su questo, attenzione, non è più sulla vita e sui diritti, è su quanto devono essere aboliti. Allora naturalmente abbiamo una sinistra, una sinistra anche estrema, che dice noi siamo la sinistra, noi siamo quelli che per tradizione portiamo avanti i discorsi dei diritti e noi diciamo che vanno aboliti al 40%. Poi c'è un centro che dice no, 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 i diritti vanno aboliti al 60%. Poi c'è la destra che dice no, 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 i diritti vanno aboliti al 80%. No, e si discute in Parlamento e si fanno le discussioni sui giornali, nei talk show televisivi, vanno aboliti i diritti al 40%, al 50%, al 60%, al 70%. Cioè questo è il dibattito. A questo voi siete chiamati a votare, a giudicare, eccetera. Questa è la scandalosa realtà di cui non ci rendiamo più conto. Cioè nessuno più sta pensando, sta proponendo, perché è completamente impensabile, che esistono diritti fondamentali. diritti fondamentali, il diritto ai beni comuni, l'acqua, l'aria, il diritto alla salute. Cioè la salute non è una BMW, se hai soldi la compri, se non hai soldi la lasci dal concessionario. Non può essere questo la salute, di fatto oggi questo è la salute. Chi come me si occupa anche di questi temi, con un altro libro che mi sto occupando molto intensamente di salute, sa, e ve lo dico in maniera molto brutale, che la maggioranza dei malati di tumore in Italia muore 4-5 anni prima. Semplicemente perché non ha accesso a delle cure che invece possono essere praticate, possono essere ricercate e trovate, se c'è l'aggancio, la conoscenza, il denaro, la possibilità. Questo è un dato di fatto. Oggi tutti diamo per scontato che naturalmente, certo, fai un'impegnativa per una mammografia, o per un'ecografia, o per una cosa, c'è da aspettare. Se vai privatamente, cioè se compri la BMW, te la danno subito, no? Però questo succede. Ma io trovo pornografico che succeda. Cioè, non arrivo neanche ad accettare che se ne possa discutere. Ma va bene, ma va male, ma è giusto, ma non è giusto. Ci deve essere un settore privato, ci deve essere un settore pubblico. Cioè, io trovo pornografico che abbiamo accettato che possa esistere una realtà di questo genere. Non dovrebbe proprio esistere. Il diritto alla libertà lo stanno cancellando. Intercettazioni, leggi ad hoc negli Stati Uniti, ma anche adesso in Italia, arriveranno anche da noi. Le leggi che, per esempio, negli Stati Uniti è stato abolito. Abolito l'Abeas Corpus. Cioè, una cosa straordinaria, incredibile. Dal 1200 e rotti, improvvisamente, quanti secoli sono passati, viene abolito l'Abeas Corpus. Scompare. E non si scende in piazza per questo. Parlo di diritti, come per esempio, il diritto alla parità degli esseri umani. Cioè, oggi diamo per scontato, lo accennava prima Fausto, che ci sono delle persone importanti. È pazzesco. È incredibile che qualcuno dica e che tutti ammettono che ci sono delle persone importanti. Ma come? Cosa vuol dire una persona importante? Chi è importante? Cioè, qualcuno è più importante di questa signora? Perché? Cos'è il VIP? Perché ci sono le persone che contano? Perché abbiamo accettato questa struttura? Che poi ne potrei parlare per delle ore. Questa è un'altra cosa. che sta distruggendo la nostra società. Ma questa è una cosa che è passata, è passata davanti a tutti, la accettiamo tutti. Nessuno scende in piazza, non ci sono le rivoluzioni contro questo. È accettato che su questo pianeta uno è più importante di qualcun altro. E naturalmente è poi accettato di conseguenza che su quello più importante vengono accumulati privilegi incredibili. E non si sa perché. Però viene accettato. Tutti noi, tutti in questa stanza, senza eccezione, abbiamo accettato questo sistema. È incredibile. È incredibile. Grazie.